Bello a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovissimo video di minecraft Siamo se non sbaglio al quarto episodio Eh si siamo tornati Scusate se non c'è la webcam Ma un problema tecnico Si è rotto il microfono Iniziamo subito qua Non c'è niente Vabbè iniziamo perché Siamo sul ghiaccio mi ero scortato Quindi più o meno dai è più facile Facciamo tutto in una runner Troppo veloce siamo quindi Poco poco più piano e ce la No non è possibile Quanto cazzo è lungo Non ci arriverò mai io là Oddio raga No non laggare Non laggare adesso Oh mio dio No ti ho detto di non laggare Ah ma pensavo Fosse tutto ramposo Però un checkpoint Madonna Aspettiamo che carichi il mondo Oh Madonna Cioè raga senza Se non ci fosse il video sarebbe un Un porno Continuiamo Prendiamolo Forse questo non c'entrava molto Ma vabbè Adesso facciamo La parte femminile No dai mi censurano il video dai Però Mi devo concentrare Oddio Raga io qua se muoio Non lo so Madonna Madonna Oh 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 Ah E dai Bastardo Cioè per andare Oh Oh mio dio Ma no Oh che cazzo è sto coso Oh raga Lo voglio provare Lo voglio provare Vai Non lo so però se rischiare Oh No non rischiamo Io direi di farlo da qua No Siamo ritornati Dopo Non so quanto tempo Oh Però per un po' Per Per poco non Cioè Il palazzo l'ho preso Non il cazzo Il palazzo Attenzione No 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 Scusate ragazzi Non so Ma Voi Sicuramente Non cambierà niente Ma io sono andato a mangiare Ma ricominciamo Da Lo stesso punto Boom Boom Cadiamo adesso È il colmo È il colmo Il colmo No Dai raga Ce la posso fare Comunque Devo ammetterlo Non è stato Così difficile Come parkour Certo Non abbiamo Ancora finito Perché ho fretta di finirlo Tanto Abbiamo tutto il tempo Sì Attenzione Attenzione Valerio E porca Lo devo dire Senza usare la game mode Ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Se è così commentate Condivete il video Iscrivetevi al canale A me sinceramente Questa serie sta piacendo A me Le serie parkour Piacciono in generale Davvero tutto Un abbraccio Ciao a tutti